Allora, voglio fare una diretta non lunga, spero, però per ragionare con voi su un aspetto, sì vedo che la luce è pessima, volevo ragionare sull'aspetto legato al fatto che ci stanno presentando la riforma del Catastro, anche oggi ero dalla Merlino perché ho avuto la possibilità di godere di quel battibecco con quel fighetta di Farinetti e ovviamente tutti adesso parlano di questa riforma del Catastro e la mettono sui binari dell'equità sociale, adesso bisogna fare la riforma del Catastro in modo tale che per dare la caccia gli abusi, per stanare i furbetti. Allora questa cosa qua praticamente io la sento tutte le volte che vogliono fare una riforma che alla fine frega il cento medio. Allora hanno cominciato con il lavoro dicendo che facevano la riforma del lavoro per dare più soldi ai lavoratori e quindi hanno iniziato a inventarsi moduli contrattuali, a inventarsi lavori e lavoretti sempre con lo spirito buono di dare più soldi al lavoratore. A fine purtroppo vediamo benissimo che il lavoratore con il passare delle riforme a chi ha di meno e fare pagare di più a quelli che hanno troppa pensione e hanno fatto le riforme delle pensioni perché ce lo chiedeva l'Europa e poi alla fine i pensionati si lamentano tutti. Adesso abbiamo caccia agli abusi come sarà il nuovo Catastro. Il nuovo Catastro sarà che alla fine sarà colpito il cento medio e faranno in modo tale che siccome abbiamo un patrimonio immobiliare e abbiamo una platea di proprietari di casa che fa invidia al mondo ecco che vogliono utilizzare la riforma del Catastro per fare pagare un po' di più e intaccare il bene casa. Questa è la verità. Ve ne dico un'altra. Vogliono togliere il contante per combattere l'evasione fiscale. Altra cazzata cosmica come se le grandi evasioni fiscali, le grandi illusioni fiscali avvenissero coi contanti, i bigliettoni da cento. Adesso abbiamo visto anche recentemente l'ultimo scandalo fiscale che guarda a caso va sempre a colpire quelli che si travestono da buoni, gli artisti, i mecenate, i Blair della situazione. Sono sempre loro, sono quelli che vogliono apparirsi, vogliono dare l'impressione di essere buoni, di essere bravi, di essere solidali con gli altri e poi alla fine si avvantaggiano dei paradisi fiscali. Quindi vogliono la riforma del contante, vogliono abbattere il contante perché così almeno ti dicono abbiamo combattuto e combatteremo l'evasione fiscale. Sullo stesso tenore c'è anche la vicenda che riguarda la pandemia. Prima tagliano sulla sanità pubblica, dopo ti dicono ma bisogna potenziare la sanità pubblica, bisogna avanzare con il piano vaccinale in modo tale che tutti stiamo meglio e vai a capire che alla fine soldi alla sanità pubblica non arrivano, stanno facendo carne da macello sui lavoratori e sui diritti di lavoratori che sono discriminati dal Green Pass e stanno facendo favori enormi alle case farmaceutiche, ai colossi farmaceutici, i fondi speculativi, i fondi di investimento che sanno benissimo che lì dentro c'è l'Eldorado. Ora però si scopre anche che una delle case farmaceutiche ha trovato una pillola come potrebbero essere tante altre pillole per guarire, per curarsi. Allora l'affare adesso sarà sulla pillola e infatti nel giro di pochi giorni le case farmaceutiche che avevano puntato tutto sui vaccini hanno cominciato a flettere in borsa mentre la Merck, perché di loro si trattava, con questa pillola anti-covid le azioni sono salite e allora non ci venissero a raccontare cretinate che vogliono fare le riforme per venirci incontro. Poi per chiudere il discorso che riguarda un po' il voto, il non voto delle periferie perché so che in tanti si sono arrabbiati, hanno detto ah gli italiani però quando bisogna andare a votare poi non vanno. È vero la partecipazione è stata molto molto ridotta e secondo me questo è l'elemento più grave di quest'ultima tornata elettorale perché più di un italiano su due praticamente ha detto al capo dello Stato che è il capo dei cittadini, è il primo cittadino, è quello che volete voi, ha detto guardate che noi non ci fidiamo più delle istituzioni, non della politica, delle istituzioni guardate che questo è già un effetto Draghi, quando vi vengono a dire che arrivano tanti soldi dall'Europa, ancora una volta vedremo questi soldi dove andranno a finire, nell'economia reale, io non credo, ve l'ho già detto mille volte ma da qui a pochi mesi lo capirete anche voi, i problemi saranno ulteriormente ammalorati dal tema della casa, la casa che di fatto già con la riforma inserita dal PNRR, quella riforma che vuole l'Europa, la riforma della giustizia, la casa che è stata messa a garanzia di un prestito sarà portata via alle famiglie esecutate, magari alla prima casa perché il mondo bancario voleva assolutamente mettere le mani su quelle case, su quegli immobili messi a garanzia e se non sono gli immobili sono i capannoni oppure sono i macchinari, quindi tutto ciò che veniva messo a garanzia oggi in un momento di difficoltà viene portato via, perché? Perché l'Europa non vuole più che le banche italiane, già aiutate nei mesi scorsi nel sistemare le sofferenze, abbiano o maturino nuove sofferenze bancarie, quindi i famosi NPL, non performing laws, quindi abbiamo questa verità sociale che sta alla base dei mesi che ci aspettano, per non dire del mondo del lavoro, un mondo del lavoro che sarà incrinato dalle crisi aziendali e dalla facilità di licenziare, oggi si licenzia con sml, con una mail, una cosa barbara, vigliacca, che smonta anche quel che resta della dignità dei lavoratori. Quindi per andare in chiusura vi dico che le lezioni potevano essere un momento per mandare un segnale, ma capisco anche chi dalle periferie ha mandato un segnale a tutti, dicendo guardate che i nostri problemi sono sempre gli stessi, si stanno aggravando e nell'aggravarsi la nostra dignità di cittadini viene meno. Io ho visto situazioni drammatiche, quando terminano i mercati c'è un mondo che non è solo da raccontare, è un po' da vivere, da prendere per mano e credo che sia una delle tragedie di un inverno che andremo, di un autunno e di un inverno che andremo a vivere. Quindi io vi saluto e basta. Qualcuno mi sta chiedendo cosa dice di Salvini Sbruffone? Si vede, Salvini da che era la bestia è diventato il cagnolino di Draghi, dice una cosa e poi il giorno dopo praticamente Draghi lo richiama a servizio e questo è, quindi da bestia a bestiolina simpatica, un cane da compagnia. Va bene, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ovviamente noi a Palazzo Marino ci entreremo, dovremo fare il ricorso al TAR, già ieri ne abbiamo viste di ogni e faremo il ricorso al TAR per farci dare i 45 voti che ci mancano, 45 voti. Noi ci hanno sfilato il seggio in consiglio comunale, intanto ci hanno fregato un po' di voti, ma andremo alla conta e ristabiliremo quello che è giusto ristabilire. Ciao a tutti.